Coppa Carnevale 2015 scontro diretto tra Gasoline for Humans e Simone Team abbiamo qui per Gasoline for Humans Charles Mpacot e abbiamo per Simone Team Simone Panara ci chiediamo appunto da chi ha preso il nome della tua squadra Simone? ma penso proprio, non ho dubbi, da me perfetto volevo chiedere a Charles, ti do una bacchetta magica per un secondo dici dove vedi la tua squadra alla fine del torneo speriamo di arrivare molto più in alto di quello che abbiamo fatto l'anno scorso sono tre punti importanti questo come dicevo è uno scontro diretto entrambe le formazioni a tre punti quindi chi vince stasera passa come vedi i tuoi ragazzi Simone? li vedo carichi come sempre e stasera vinciamo noi ultima partita quindi molto importante come dicevo chi vince stasera volevo dirti Charles, come vedi i tuoi ragazzi e come ti sei trovato con l'organizzazione se parteciperete ancora con Sportland a nuovi eventi? sicuramente ci saremo anche nei prossimi eventi stasera vedo ragazzi carichi quindi speriamo di passare va bene, vi chiedo solo una stretta di mano in segno di fair play vi faccio gli auguri per questa partita grazie 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 a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 passo, passo, passo. grazie a tutti. 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 e a tutti. grazie a tutti. grazie a tutti. Grazie. Sì, sì, sì. 1, 2, 1, 2, 1, 1. Grazie a tutti 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 Luca Luca Grazie a tutti 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 Faccio Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti